travolto dal treno mentre attraversa i binari testimone sotto shock inutili soccorsi furto alcolico all'esse lunga di carrara un arresto e due denunce refurtiva di 400 euro in bottiglie di vino indagini della guardia costiera su arpat documenti in mano alla procura per accertamenti sulle cave nessun indagato comitato ex cavaviti sul piede di guerra con la regione necessario avviare un iter per impatti ambientali sanitari viaggio sulla linea extraurbana massa forno l'assessore guidi ascolta le problematiche dei cittadini corsi per dipendenti comunali l'architetto giorgi suggerisce al sindaco persiani di istruire i dirigenti buonasera nuovo appuntamento con l'informazione di antenna 3 muore travolto da un treno mentre attraversa i binari incidente fotocopia quello di pochi giorni fa alla stazione di avenza l'uomo 55 anni non ha visto arrivare il freccia bianca sono stati inutili i soccorsi sentiamo margherita badiali travolto e ucciso da un treno mentre attraversava i binari un incidente fotocopia di quello di pochi giorni fa alla stazione di avenza dove una donna di 50 anni è morta colpita da un freccia bianca mentre si trovava sulla linea ferroviaria un'altra tragedia silenziosa come solo i freccia bianca possono essere ha provato il balzo l'uomo che voleva saltare il binario 1 mentre il freccia bianca attraversava e lo travolgeva uccidendolo l'uomo d'origine romena di 55 anni era in stazione l'unico a vederlo fare quella fatale imprudenza è un ragazzo che chiama subito i soccorsi nonostante lo shock di vedere una scena simile alle forze dell'ordine racconta che ha visto l'uomo scrutare i binari misurando la possibilità di passare da una banchina all'altra sono pochi passi e sul suo lato vede solo un treno regionale che marcia piano la sicurezza lo tradisce e si lancia fa pochi passi avverte solo il fischio sul secondo binario è il freccia bianca in arrivo da genova e diretto a roma non fa soste e fai 170 chilometri orari lo travolge l'uomo viene sbalzato sulla banchina del secondo binario mentre il treno comincia una frenata che lo farà arrestare 200 metri dal punto dell'impatto dal treno regionale scende subito un medico che capisce cosa è successo ma non c'è niente da fare l'uomo è morto quasi un incidente silenzioso in pochi si accorgono di cosa è successo alla stazione alcuni pensano che abbia avuto un malore e solo all'immediato arrivo dei sanitari e della polizia si capisce che è successa una tragedia la stazione viene sgomberata resta solo il testimone pallido sconvolto non sa cosa facesse l'uomo sembrava aspettare un treno viveva in provincia di pisa a cascina ha attraversato come chi ha paura di perdere la coincidenza a pochi metri il sottopassaggio una garanzia per la vita questa un'altra morte sotto un treno per imprudenza è stato trovato morto questa mattina un 79enne originario di fivizzano in foce di pianza sul monte sagro l'uomo ha perso la vita dopo essere precipitato nel vuoto per diversi metri stando alle prime ricostruzioni la vittima in compagnia di un suo amico stava raccogliendo delle erbe aromatiche quando è scivolato su un sentiero particolarmente accidentato cadendo poi nel dirupo sottostante a nulla sono valsi soccorsi di carabinieri e soccorso alpino del 118 prestati all'uomo che è deceduto sul colpo la salma recuperata grazie all'intervento dell'elisocorso Pegaso è stata posta a disposizione dell'autorità giudiziaria sono state rubate bottiglie di vino all'esse lunga di Carrara una refurtiva alcolica che è costata un arresto e due denunce dai carabinieri la cronaca un furto avvinazzato quello messo in piedi da due donne all'esse lunga di Turigliano a Carrara sono state sorprese in flagranza di reato dai carabinieri martedì pomeriggio mentre si recavano all'uscita del supermercato con due borse piene di bottiglie di vino che non erano passate dalle casse le ladre notate fin da subito dagli addetti alla sicurezza dell'esercizio commerciale sono riuscite a fare solo 100 metri per allontanarsi dal luogo del furto per poi essere bloccate dai militari un'area furtiva del tutto alcolica le due donne avevano nelle borse 14 bottiglie di vino molto pregiato del valore di 400 euro una delle due fermate 26enne già nota alle forze dell'ordine di origine albanese ma residente a Montignoso è stata arrestata mentre per l'altra una minorenne originaria di Trento è scattata la denuncia in stato di libertà a seguito di successivi accertamenti è stato individuato e identificato anche il palo si tratta di un 31enne pregiudicato residente a Montignoso anche quest'ultimo è stato deferito all'autorità giudiziaria per tutti l'accusa di furto aggravato in concorso l'arrestata è stata messa agli arresti domiciliari presso la propria abitazione la misura coercitiva è stata altresì confermata dal giudice del tribunale di massa a seguito dell'udienza di convalida la donna rimarrà agli arresti domiciliari fino al processo indagini della guardia costiera ad arpat acquisiti alcuni documenti da parte della procura per accertamenti sulle cave al momento non risultano persone indagate in mezzi della guardia costiera fermi davanti alla sede di arpat in via del patriota massa un'indagine in corso condotta insieme ai carabinieri alla ricerca di alcune possibili irregolarità in alcuni documenti al momento le bocche sono cucite non ci sono notizie di eventuali iscrizioni di dipendenti o altre persone nel registro degli indagati durante la mattina di ieri è andata avanti la ricerca di alcuni documenti carte autorizzazioni all'interno degli uffici dell'agenzia regionale per la protezione ambientale e pare che quel che si cerchi dalla procura siano documenti che riguardano questioni concernenti le cave secondo le fonti tutto dovrebbe essere partito circa alcune segnalazioni arrivate in procura riguardo di pratiche poco corrette nella gestione degli scarichi industriali insomma di problemi di sversamenti dei residui dell'attività gestito in maniera poco corretta e di un problema inerente ai controlli non si sa però se l'attività di indagine coinvolge anche l'operato di arpat o se si tratta semplicemente di un accertamento riguardo a certi documenti in possesso dall'agenzia quel che è certo che i controlli delle forze dell'ordine sono andati avanti per un certo tempo con il recupero di una discreta quantità di documenti conservati negli archivi ma sul resto vista l'attività di indagine in corso c'è il più stretto riservo da parte degli inquirenti il procuratore aldo giubilaro smentisce anche lui la presenza di indagati a seguito dell'attività di indagine predisposta l'attività di perquisizione e spezione negli uffici arpat si è conclusa nella mattinata di ieri con l'acquisizione di alcuni documenti da parte della procura riguarda situazioni inerenti all'attività industriale in cava indagine quelle sulle cave che sono al centro del lavoro del pool appositamente creato un procura il comitato volontario contro ex cava viti ancora sul piede di guerra con la regione toscana ci sentiamo presi in giro dalle decisioni dell'assessore fratoni martedì alle 19 un consiglio comunale a montignoso dove sarà presentata una mozione per sospendere l'attività di discarica e avviare un iter per valutare impatti ambientali sanitari rimaniamo attenti vigili e sempre più esterrefatti dal comportamento degli enti di vigilanza e dalla regione toscana lo sottolinea in un comunicato il comitato volontario contro la discarica di ex cava viti che è venuto a conoscenza dopo la commissione di controllo di cava fornace del fatto che durante l'audizione della quarta commissione ambientale regione toscana l'assessore regionale all'ambiente fratoni avrebbe ribadito che la sua volontà e quella della giunta sia non solo quella di prolungare la vita della discarica fino a quota 98 metri fine vita utile ma di rimuovere anche il vincolo del 30 per cento di materiali speciali amianto se questa volontà si concretizzasse ribadiscono e ci auguriamo che ciò non accada mai trasformerebbe il sito in una discarica completamente diversa dalle stesse autorizzazioni precedenti concesse il tutto andando contro al volere popolare alle norme ambientali al volere di quattro comuni con circa 50.000 cittadini e al volere stesso del consiglio regionale che ne ha chiesto la chiusura definitiva anche comuni di pietra santa forte de marmi seravezza erano tutti presenti alla commissione di controllo e propositivi nel cercare di risolvere la questione di scarica che diventa sempre più grave proponendo un consiglio straordinario aperto al pubblico di tutti i quattro comuni interessati continuano per compensare anche la mancata convocazione di quello straordinario richiesto dalle forze di minoranza montignosine e che a montignoso non è mai stato indetto in barba alle regole comunali e democratiche consiglio straordinario per il quale manca detta del comitato la volontà di convocazione da parte dell'amministrazione di montignoso sarebbe solo un attacco politico alla giunta dice ancora il comitato quindi anziché ad operarsi per cercare di risolvere il problema si preferisce non discuterne minimamente la commissione comunque sembra incline a chiedere una sospensione cautelativa dei conferimenti anche in virtù del fatto che ad oggi mancano ancora le fide ossioni obbligatorie ad avviare l'iter di richiesta del parere igienico sanitario è evidenziato la necessità di fare misurazioni e analisi aggiuntive dato che anche quelle di arpat continuano ad essere poco chiare mentre la versiglia e montignoso si avviano ad essere una nuova terra dei fuochi concludono viste le incidenze tumorali in aumento qui si tergiverse si prende tempo nell'aspettare delle soluzioni che la regione toscana non vuole emettere perché è palese che l'interesse di pochi è superiore a quello di cittadini e del buon senso il comitato contro ex cavaviti invita tutti a partecipare al consiglio comunale di montignoso che si terrà martedì 31 luglio alle ore 19 dove verrà discussa una mozione della minoranza in prima firma del consigliere paolo lenzetti del movimento 5 stelle che chiederà la sospensione dell'attività finché la regione non avvii un iter per valutare l'incidenza ambientale e sanitaria dell'impianto di discarica prima di qualsiasi atto o nulla osta regionale aumentano i controlli effettuati dal consorzio di bonifica 1 toscana nord 4 nuovi guardiani idraulici vigileranno su manufatti non autorizzati prelievi d'acqua non concessionati e scarichi abusivi i dettagli da elisabetta guenzi crescono vigilanza e controllo del consorzio di bonifica 1 toscana nord su tutte le aree del territorio di competenza per garantire una sempre maggiore sicurezza idraulica dell'intero comprensorio sono infatti operativi nuovi quattro guardiani idraulici consortili che in collaborazione con gli uffici saranno costantemente sui corsi d'acqua e sulle pertinenze delle opere idrauliche per verificare la presenza di eventuali manufatti non autorizzati in fragiori prelievi dalla rete rigua privi della dovuta concessione scarichi abusivi e più in generale ogni situazione che rischia di compromettere la sicurezza idraulica ed ambientale dei corsi d'acqua i quattro nuovi dipendenti tecnici comunica il consorzio di bonifica saranno costantemente sul territorio ciascuno in un'area del comprensorio versilia lunigiana massa carrare montignoso lucca piana lucchese area del bientinese la squadra consortile oggi più forte operativa sul territorio commenta il presidente del consorzio ismaele ridolfi grazie a questi nuovi ingressi infatti avremo la possibilità concreta di essere maggiormente presenti lungo i corsi d'acqua e così aggiunge il presidente potenzieremo le nostre principali attività sia quella relativa alla sicurezza idraulica sia l'impegno inerente l'irrigazione la necessità di aumentare controlli sulla distribuzione d'acqua campi e culture era stata evidenziata più volte spiegare i dolfi anche dalle associazioni agricole inoltre precise il presidente che ha bisogno di prelevare acqua dei corsi d'acqua per l'irrigazione o per realizzare attraversamenti o coperture su corsi d'acqua nelle aree di pertenenza del rì deve richiedere agli uffici consortili la necessaria concessione i nuovi guardiani idraulici si occuperanno proprio di dar vita ad ancora più puntuali controlli in merito e questo conclude il presidente è importante anche per una maggiore equità contributiva anche a massa la produzione lo smaltimento di rifiuti praticati non è più sostenibile le recenti dichiarazioni dei lavoratori asmiu lo dimostrano vengono sprecate troppe risorse viene consumato troppo suolo viene generato troppo inquinamento vengono spesi troppi soldi dei cittadini che potrebbero essere impiegati altrove questo è il monito di maurizio bonugli di area 2018 secondo cui occorre praticare l'obiettivo dei rifiuti zero con scelte amministrative coerenti e continuative area 2018 propone che la raccolta differenziata porta a porta si è stesa a tutto il comune chiedono l'introduzione della tariffazione puntuale che premia chi produce meno rifiuti e incentivi per diminuire la produzione di rifiuti alla fonte inoltre così facendo si ridurrebbe anche il peso della tariff che al momento resta fra i più alti della toscana area 2018 propone inoltre il potenziamento della ricicleria e del servizio di ritiro degli ingombranti a domicilio e di tutti i servizi di asmiu a partire dalla pulizia spazzamento disinfezione disinfestazione di strade piazze e spazi pubblici in tutta la città della montagna al mare per garantire il massimo decoro urbano sul problema della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti urbani la nuova amministrazione è chiamata a dare risposte a proporre nuove strategie per fare di asmio una municipalizzata all'avanguardia il problema sanitario in estate si fa sempre più delicato a constatarlo è il sindacato cisl secondo cui il pronto soccorso dell'ospedale non sarebbe in grado di rispondere alle esigenze sanitarie a causa anche del poco personale il sindacato ricorda che con la legge fornero il 20 per cento di medici e infermieri non è stato rimpiazzato da nuove assunzioni una situazione che per la cisl è destinata ad aggravarsi nei giorni scorsi inoltre continua la cisl la regione toscana ha approvato una delibera per affrontare l'altro grande problema sanitario quello delle liste d'attesa adesso conclude la cisl vedremo se la soluzione adottata dalla regione si rivelerà una specie di cura palliativa di un sistema che appena può fugge nel privato impedendo ai cittadini di fruire appieno del diritto alla salute sancito dalla nostra carta costituzionale dopo le lettere di denuncia scritte dal sindaco valettini a rfi sulla situazione di degrado in cui versa la stazione di aulla ieri si è tenuto un incontro tra il primo cittadino e efisio murgia il direttore territoriale della produzione firenze invitato direttamente a rendersi conto della situazione da questo sopralluogo rfi deciso di installare videocamere anche all'esterno della stazione ovvero nel piazzale che verranno controllate in remoto nel comune di aulla o dall'unione dei comuni investendo per una maggiore sicurezza per coloro che frequentano le stazioni e la speranza di allontanare una volta per tutti i vandali sarà anche installata una sbarra per vietare l'accesso e permanenza ai camper le chiavi saranno in possesso dei vigili del fuoco e delle pubbliche assistenze per gestire le emergenze in aggiunta sono stati offerti alcuni locali in utilizzo alla protezione civile riaprirà anche il bar che contribuirà anche ad eliminare problemi di criminalità e vandalismo che si sono registrati in questo periodo in assenza di attività apprezzata dal sindaco e dall'amministrazione la visita di murgia e le decisioni prese in merito per far rinascere un servizio cruciale per la cittadinanza aullese e per tutti i lunigenesi parliamo adesso di una viaggio sulla linea extraurbana massa forno per rendersi conto della situazione lamentata dalla cittadinanza l'assessore guidi ha preso il bus e ascoltato il lungo elenco di problematiche segnalate dai residenti il servizio solitamente la corriera è più sporca e va molto più veloce di ora è ciò che ci raccontano alcuni cittadini nel percorso da massa forno accompagnati eccezionalmente dall'assessore al trasporto pubblico marco guidi ed alcuni rappresentanti di fratelli d'italia l'elenco di ciò che non va è lungo bus sporchi rotti vecchi la strada dissestata e con macchine parcheggiate ai lati della strada rincari negli abbonamenti siamo passati per il percorso forno marina di massa da 39 a 51 euro di abbonamento lamentano i residenti e servono due biglietti se vogliamo andare al mare i cittadini hanno avviato anche una raccolta firme ecco allora che l'assessore ha voluto verificare con i propri occhi cosa c'è che non funziona ci sono problematiche anche di collegamento con la zona di forno stamattina mi sono voluto rendere conto di come funziona il collegamento quindi ho preso apposta la corriera con i cittadini i quali mi hanno raccontato lì e ho potuto constatare mezzi obsoleti vecchi sporchi problematiche di orario mentre probabilmente il collegamento a forno ma tutte le zone della montagna potrebbe essere già un primo passo per far rivivere la zona della montagna chiaramente là dove manca un collegamento non puoi portare neanche su persone non puoi portare turismo abbiamo sempre detto che la montagna deve essere un portale per il turismo deve rilanciare il turismo bisogna partire dai collegamenti nei prossimi giorni incontrerò e chiederò incontro ai vertici di ctt quelli che gestiscono quindi il servizio pubblico perché mi dovranno dare delle risposte concrete sulle problematiche che mi hanno segnalato i cittadini ma anche poi gli operatori che continuamente lavorano quindi gli autisti chiederò un incontro e dovremo avere un tavolo con loro e poi eventualmente con la regione nel frattempo l'assessore Guidi dopo aver incontrato la cittadinanza sta ricevendo i sindacati di categorie la prossima settimana ascolterà i vertici del ctt per riferire le problematiche studiare insieme soluzioni ma del trasporto pubblico fratelli d'italia se ne era già occupata in passato breve incontreremo i vertici del ctt a quale chiederemo intanto di fare un giro come abbiamo fatto noi stamani sulle corriere e vedere la faticenza e lo schifo in cui le persone fanno questi viaggi viaggi della speranza al caldo e tra le rovine rischiando di prendere delle infezioni oggettivamente intanto di fare questo forse prendere atto visivamente e fisicamente di una situazione e poi di capire che le frazioni montane vivono un disagio e quindi di abbassare questi prezzi di darci delle corriere degli autobus delle macchine dignitose e nuove come ci sono in giro per la Toscana peraltro e quindi di abbassare gli abbonamenti che sono comunque rincarati nonostante quello che dicono. I residenti di Forno nel viaggio dal capolinea al paese non smettono di raccontare come spesso ci sia un rischio di incidenti una signora dice di aver contratto un'infezione a contatto con lo sporco e poi c'è anche chi per arrivare a Guadine è costretto a farsi un chilometro a piedi. Corsi per dipendenti comunali l'architetto Alessandro Giorgi suggerisce al sindaco di massa di istruire dirigenti e impiegati verso l'educazione e la buona volontà nel soddisfare le richieste dei cittadini senza ostruzionismo. Caro sindaco come cittadino massese e operatore professionale le sarei grato ma come me tutta la comunità se riuscissero un compito che non richiede denaro ma cultura. Così esordisce l'architetto Alessandro Giorgi in una lettera che ha inviato al primo cittadino del comune di massa avvocato Francesco Perziani a cui chiede di modificare il rapporto tra la burocrazia dell'ente e il cittadino. Il dirigente pubblico, l'impiegato deve essere un amico, un semplificatore per le richieste del cittadino e non una figura ostativa. Occorre un cambiamento di mentalità e di comportamento aggiungiamo noi. Giorgi suggerisce quindi al sindaco Perziani di provvedere a corsi specifici per tutto il personale dipendente affinché l'educazione, il rispetto e la capacità di risolvere le varie problematiche diventino un modus operandi nell'interesse del cittadino. La politica deve pensare a formare una diversa mentalità che consenta alla città di massa di non essere la prima del nord Italia per elementi negativi, nell'ultima per fattori positivi. Alessandro Giorgi si augura che la nuova amministrazione metta il cittadino al centro di qualsiasi iniziativa e vagli attentamente le proposte innovative e occupazionali che emergono dal territorio, in special modo quelle culturali, nell'interesse della collettività perché senza cultura non c'è futuro. La politica nel passato sicuramente ha fatto la sua parte, ha venduto la salute del territorio per un tozzo di pane. Così chiude la sua lettera l'architetto Alessandro Giorgi. 16 giorni effettivi dalle 8 alle 20, un mezzo con autopompa e uno più leggero in caso di interventi nei centri storici o boschivi. 5 operatori professionali, questi sono i numeri del distaccamento estivo dei Vigili del Fuoco che è stato inaugurato questa mattina nelle scuole medie di Via Martini a Pontremoli. Come l'anno scorso anche per questa estate il comando provinciale dei Vigili del Fuoco tramite una convenzione firmata dal Ministero dell'Interno, dall'Unione dei Comuni Montana, Lunigiana e dai Comuni di Pontremoli, Bagnone, Filattiera, Mulazzo, Tresana, Villa Franca e Zeri si è insediato con una squadra del tutto operativa all'interno di una sede distaccata in Via Martire della Libertà nel cuore del Comune di Pontremoli. E già nella prima mattinata sono stati due gli interventi portati a termine dalla squadra, il primo nel Comune di Filattiera e il secondo in quello di Villa Franca in Lunigiana. Oggi, domani e domenica, al prossimo fine settimana del 3, 4 e 5 e dal 9 al 19 di agosto per un totale, come dicevamo, di 16 giorni, dalle 8 alle 20 il distaccamento sarà attivo con una squadra preparata e completa. Il gruppo di azione locale della Lunigiana lunedì 30 agosto alle 9.30 presenterà al pubblico il bando con misura 7.5 rivolto agli operatori del turismo per il sostegno ad investimenti in infrastrutture ricreative pubbliche, centri di informazione turistica, centri di infrastruttura turistica su piccola scala, rivolto a comuni, unioni dei comuni, enti parco e camere di commercio con contributi in conto capitale. Un incontro aperto a tutti gli interessati e che si svolgerà all'interno della Sala dei Sindaci di Pontremoli con lo scopo di incentivare la conoscenza su tale possibilità e sulle modalità di partecipazione al bando stesso. In un momento di difficoltà economiche e sociali il patronato in Api rafforza la sua presenza sul territorio e sarà più vicino alle esigenze dei pensionati e della gente. Presso tutti gli uffici in Api sarà possibile avviare gratuitamente tutte le pratiche di pensione, supplemento di pensione, ricostituzione, tanti altri servizi, IMS, infortuni sul lavoro, malattie professionali, revisioni, rendite INAIL e indennità civile. Inoltre dove il patronato in Api è attivo anche il CAF FENAPI per espletare tutte le pratiche necessarie ai cittadini. Abbiamo la pubblicità ma abbiamo ancora altre notizie quindi vi aspetto. MB Garden è l'emozione di vivere la natura, la progettazione fotografica dei vostri spazi verdi, dal parco con piante olivi secolari al piccolo giardino. MB Garden è la serra, un trionfo di fioriture primaverili, piantine da orto, aromatiche, piante da frutta, vasi, terricci, un'offerta selezionata, completa e sempre nuova a prezzi incredibilmente bassi. MB Garden, via Aurelia Ovest 295 a massa, dalla progettazione alla manutenzione del tuo verde, con sopralluoghi e preventivi gratuiti. Offerte e news su Facebook. Amore, ci sono mille cose da fare prima della festa per Zia Pina e tu sei sempre lì con quel tabletto. Piante da sistemare, muri da tinteggiare, la parabola da montare. Già fatto! E come? Noleggiando tutta l'attrezzatura dai talnovo. Resta solo la festa. Fatto anche questo. Ora manca solo Zia Pina. L'hanno già roleggiata. Tutti possono rivolgersi al talnovo. Da Brico Center è già estate. Non avete ancora visto cosa c'è di nuovo in negozio? Venite con me. Per rinfrescare le tue giornate, scegli il ventilatore che vuoi. E se per rinfrescarti un ventilatore non bastasse, fai un bel tuffo in piscina. E per mantenere pulita la tua piscina, qui abbiamo tutti i prodotti. Ma da Brico Center potevano mancare i fiori? Eh no! Eccoli qui! Da Brico Center trovi tutto, anche di più. E per quello che non trovi, chiedi a noi. Brico Center. Massa via Marina Vecchia 5. Ti aspettiamo! È stata pubblicata la graduatoria provvisoria degli ammessi unitamente all'elenco degli esclusi al bando di concorso per l'erogazione dei contributi di integrazione al canone di locazione per l'anno 2018. Contro la graduatoria provvisoria è possibile presentare ricorso facendo pervenire la propria opposizione al Comune di Carrara entro e non oltre il prossimo 10 agosto, utilizzando il modulo scaricabile dal sito del Comune di Carrara dove sono consultabili anche la graduatoria degli ammessi e l'elenco degli esclusi. Per avere ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio Servizi Abitativi aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il martedì dalle 15 alle 17.00. È tutto pronto per la stagione degli eventi estivi alla Caravella di Marina di Carrara, un luogo caro ai carraresi che torna a vivere dopo anni di inattività grazie ad un intervento di recupero che è stato effettuato dal Comune di Carrara. Parte questa sera la stagione degli eventi alla Caravella. Dopo decenni di degrado e inattività, questo spazio nel cuore di Marina di Carrara torna a vivere grazie ad un importante intervento di recupero voluto e realizzato dall'amministrazione comunale. Il primo appuntamento in programma è La Voce nel Sociale, una serata di solidarietà e divertimento organizzata da CESVOT che si aprirà alle 21.15. Nelle giornate successive si terranno una serie di eventi curati da Proloco di Marina di Carrara per un totale di 5 serate. Per completare la stagione, l'amministrazione comunale di Carrara ha aperto un bando per l'organizzazione di altre iniziative. Numerose le candidature arrivate con proposte variegate sul piano dell'intrattenimento e dell'offerta culturale. Il vincitore della selezione fa sapere l'amministrazione e troverà un'area di pubblico spettacolo con la norma completamente riqualificata dotata di bidoni per la raccolta differenziata con il vialetto d'ingresso ristrutturato, un nuovo impianto elettrico e il palco già allestito, oltre alla fornitura elettrica gratuita interamente a carico del Comune. A partire da lunedì, inoltre, la riqualificazione sarà completata con l'attivazione del bagno accessibile e disabili. Abbiamo completato un intervento di riqualificazione non semplice anche per i vincoli imposti dalle nuove normative. È il commento di Gabriele Guadagni, presidente della Commissione Opere Pubbliche. Dopo tanto tempo, aggiunge, stiamo restituendo alla città un'area che in passato ha avuto un ruolo centrale per il tempo libero dei carraresi. Altrettanto soddisfatto è l'assessore Andrea Raggi. La Carabella sarà il fulcro del progetto di riqualificazione complessiva del litorale che, oltre alle opere previste dal progetto Waterfront, conclude, prevede interventi anche a Ponente su tutta l'area di proprietà del Comune. È il momento dei vostri auguri. Notte per il cuore. L'appuntamento estivo per il cuore quest'anno è giunto alla terza edizione e torna martedì prossimo, 31 luglio, con inizio alle 21.15 a Forte dei Marmi, nella Pineta a Tarabella. L'ingresso è offerta libera. L'organizzazione parte da massa e tante saranno le persone che parteciperanno a questo evento. Una serata speciale che parla di musica e di solidarietà. Il ricavato infatti verrà interamente destinato all'ospedale del cuore, l'OPA, di massa, e servirà per la gestione della struttura che alloggia i genitori dei bambini cardiopatici ricoverati nell'ospedale La Foresteria, gestita dall'associazione Un Cuore, Un Mondo. Tra gli artisti che si esibiranno nella magica cornice della Pineta di Forte dei Marmi, il cantautore Pier Davide Carone e Skip Collins, la band OPAQ, composta esclusivamente da medici e sanitari dell'ospedale del cuore e altri. Siamo giunti al termine della nostra edizione per questa sera e per questa settimana. Vi lascio in compagnia di Paolo Lunini con Meteo Weekend e vi do appuntamento alla prossima settimana. Buona serata e buona domenica a tutti. Arrivederci. Il Meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Buonasera e ben ritrovati al consueto appuntamento del fine settimana dedicato alla meteorologia. Gli ultimi giorni hanno visto una variabilità, nonostante un campo di alta pressione che si espande sul Mediterraneo e su buona parte dell'Europa occidentale. Perché quindi non abbiamo avuto delle belle giornate di sole, ma anzi abbiamo avuto anche degli episodi di instabilità pomeridiana che hanno interessato soprattutto le zone interne, quindi l'Appennino, le Apuane e l'Unigiana con dei rovesci e brevi temporali, localmente anche di forte intensità nelle ore pomeridiane. Ebbene, è una situazione che si verifica quando in estate l'alta pressione non è ben strutturata e centrata sull'Italia, ma anzi è defilata troppo a ovest e quindi permette l'ingresso di infiltrazioni di aria più fresca, in alte quote si parla di oltre 10 km di altezza, provenienti da est, dalla penisola balcanica, dalla Russia, e quindi quest'aria più fresca in quota, interagendo con quella più calda già preesistente, innesca o comunque favorisce questi episodi di instabilità pomeridiana con i temporali che puntualmente abbiamo sentito rombare in montagna, ma con dei sconfinamenti locali anche verso il fondo valle della Lungiana. Tutto ciò si è tradotto, quindi con la presenza di precipitazioni nelle aree limitrofe, ad avere dei tassi di umidità molto alti, infatti avete sicuramente notato che a fronte di temperature che sono rimaste nella media massime di 30-32 gradi, quindi valori tipici di luglio, abbiamo avuto un disagio molto accentuato, quindi un caldo affoso proprio per i tassi di umidità che sono mantenuti elevati durante tutta la settimana e durante tutto l'arco della giornata. Dando uno sguardo al nostro quadro sinottico, notiamo molto bene innanzitutto questa circolazione in quota da est che ruota in senso orario attorno a questa area di alta pressione centrata sulla Russia, che ha convogliato nelle scorse giornate, come vi ho detto, quest'area più fresca però in alta quota, responsabile degli episodi di instabilità pomeridiana. E questo flusso da est è anche stato responsabile di quei forti venti sulla penisola balcanica, in generale sull'Egeo, che hanno alimentato quei disastrosi incendi, avrete sicuramente visto, litigi nazionali che hanno interessato soprattutto la Grecia. Ebbene, vi ho detto però che la situazione è destinata a cambiare, infatti un promontorio di alta pressione, che adesso ancora nella mappa non si vede, ma prossimamente lo vedremo via via consolidarsi sul Mediterraneo, si estenderà dal Nord Africa. Infatti in anteprima diciamo che settimana prossima vedrà una fiammata di alta pressione nordafricana che stabilizzerà innanzitutto il tempo, quindi non avremo più e più osi di instabilità, ma al contempo alzerà in maniera significativa la colonnina di Mercurio. Passiamo adesso al dettaglio previsionistico per domenica, una bella giornata di sole, lo vedete anche dalla grafica, un cielo in prevalenza sereno lungo la costa e sulla bassa lunigiana, annuvolamenti di scarsa consistenza potranno formarsi in montagna, soprattutto fra la tarda mattinata ed il pomeriggio, li ritroveremo più significativi lungo il trenale appenninico, ma con il rischio di rovesci che rimarrà confinato al versante emiliano, quindi non interesserà la nostra provincia. Le temperature saranno in aumento, si farà infatti via via strada quella massa di aria nordafricana che abbiamo detto prima e quindi le massime supereranno diffusamente i 30-32 gradi in pianura e con dei tassi di umidità ancora piuttosto elevati sulla costa, quindi ancora un caldo affoso. Venti deboli o moderati sud-occidentali con rinforzi nelle ore occidentali della giornata e mare poco mosso. Dando, prima di concludere, uno sguardo alla tendenza per i giorni successivi, segnaliamo un periodo stabile e soleggiato grazie all'espansione dell'alta pressione, l'abbiamo detto più di una volta, e quindi almeno fino a giovedì e venerdì, ma probabilmente anche oltre, avremo dei cieli sereni o poco nuvolosi, al più quei consueti annuvolamenti pomeridiani in montagna, specie lunedì, ma senza il rischio di precipitazioni significative. La cosa più considerevole da segnalare saranno appunto le temperature che aumenteranno fino a portarsi al di sopra delle medie, specie a metà settimana, quindi avremo delle massime in pianura diffusamente oltre i 33-35 gradi a causa di questa rimonta nord-africana. Bene, per il momento ci fermiamo qua con le previsioni. Per tutti gli aggiornamenti vi consiglio, come sempre, di seguirli su www.meteoapuani.it. Non mi rimane che augurarvi una buona serata e un buon fine settimana. Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5, ti aspettiamo!